Radio Radicale, siamo con Gaetano Quagliariello, ex ministro delle riforme istituzionali, esponente politico del centrodestra, del Movimento Idea, per parlare dell'appello di Mattarella per fare presto la legge elettorale e per eleggere un giudice della Corte Costituzionale. Mi sembra che la risposta delle istituzioni sia stata pronta. Mattarella ha ragione, il problema non è quello di avere una data delle elezioni a tutti i costi. Io sono tra quelli che ritengono che prima si vada a votare meglio è, però il Paese non può permettersi di andare a votare senza aver fatto delle cose. Una di queste è la legge elettorale, perché noi abbiamo una Corte Costituzionale che ha detto che le leggi di Camera e Senato possono essere differenti, ma non possono essere incongruenti. E in questo momento lo sono. Quindi con ogni probabilità se si votasse con queste leggi, a parte il fatto che sarebbe difficile avere un governo, ma potremmo avere una sentenza della Corte Costituzionale che dice guardate che il Parlamento che è stato eletto è stato eletto con una legge costituzionalmente fallata. E potrebbe anche dire, ve l'avevamo detto, perché non avete messo le mani? Beh, quello che è il guardiano della Costituzione, questo lo deve ricordare, così come deve ricordare che c'è un obbligo che è quello di integrare la Corte Costituzionale del membro che manca. Io credo che ci sia anche un'altra cosa che non è stata detta, e cioè che questo Parlamento non può scaricare la tenuta dei conti sul Parlamento che verrà. Cioè deve fare tutti gli interventi necessari affinché non si abbia come soluzione obbligatoria l'arrivo della Troika. Lei ritiene che il dibattito sulla consulta aiuti anche il dibattito sulla legge elettorale, facilitando delle intese per l'elezione del giudice della Corte Costituzionale, si facilita anche il dibattito sulla legge elettorale? No, credo che le due cose siano diverse. Credo che sulla legge elettorale bisognerebbe che si lavori subito in commissione, si arrivi a un testo, io dico che ognuno ha delle preferenze. Ma c'è una cosa su cui tutti dovrebbero essere d'accordo, e cioè che le due leggi per i due rami del Parlamento devono avere una congruenza. Ecco, su questo è il minimo comune denominatore su cui bisognerebbe mettersi d'accordo. Ecco, per questo dibattito si è aspettato le primarie del Partito Democratico. Ritiene che il Partito Democratico abbia condizionato questo dibattito? E che cosa ne pensa della situazione che si è venuta a creare qua con l'elezione di Torrisi che ha creato sconcerto nel PD? No, io credo che l'elezione di Torrisi sia un atto parlamentare normalissimo. Una commissione che aveva conosciuto per caso l'azione di un vicepresidente che ha mantenuto equilibrio e che ha garantito sia la sua maggioranza, perché Torrisi è un esponente della maggioranza, sia l'opposizione, a questo punto si è affidata a lui, perché ne ha trovato delle qualità adatte al momento. È una dinamica parlamentare che andrebbe rispettata. Tutto il resto è veramente un eccesso di partitocrazia, proprio portato a livelli che non si sono mai visti. Per quel che riguarda, invece, l'altra cosa che mi ha chiesto... Il dibattito del PD che ha condizionato... No, insomma, noi abbiamo avuto una specie di grande bonaccio, l'avrebbe chiamata Italo Calvino, in attesa che si compia questo atto interno al partito, che ovviamente deve essere rispettato, si è tutto bloccato, ora speriamo che al primo maggio non si inizi di nuovo una fibrillazione incredibile, perché questo è il sospetto, cioè che, diciamo, fuori dai denti, l'ex presidente del Consiglio sia alla ricerca di una legittimazione interna per scaricarla immediatamente sul sistema. Bene, la ringrazio, grazie per le valutazioni che ha fatto, ringrazio Gaetano Quaglierello, esponente di IDEA.